salve ragazze e ragazzi benvenuti bentrovati siete nel mio canale io sono Zaire e sui tarocchi e qua sto preparando le previsioni per il segno della bilancia del 2023 quindi andremo a vedere cosa accadrà al segno della bilancia nel 2023 in amore nel lavoro della fortuna e un consiglio dagli angeli quindi con i romantic tarot vedremo l'amore con i tarocchi classici lavoro con le sibille di nostra damus la fortuna ecco gli angeli le risposte degli angeli andremo a vedere un consiglio che ci danno gli angeli allora quindi io ho voluto fare questo diciamo mio interattivo riguardo le previsioni del 2023 in maniera molto veloce e concisa insomma non durerà moltissimo questo video sarà giusto diciamo così perché ovviamente analizzare un anno dal lavoro fortuna amore ci vorrebbero dieci ore quindi noi ho pensato di fare così di prendere i punti salienti no se vi accadrà qualcosa di bello e cosa vi accadrà uscirà fuori ovviamente quella novità piacevole o insomma quella cosa particolare che diciamo salienti un punto più diciamo importante per voi andiamo a vedere cosa accadrà al segno della bilancia in amore nel 2023 vediamo cosa accadrà al segno della bilancia in amore nel 2023 ovviamente anche l'ascendente mi raccomando venere e marta allora qui abbiamo un bel lasso di bastoni quindi qua ci sarà un nuovo inizio anzi qua io vedo un ritorno abbiamo un tre di spade abbiamo un tre abbiamo scusatemi un tre di bastoni un tre di spade due tre e un sei di denari a fondo mazzo abbiamo la carta del tre di coppe mamma mia una stesa con tre tre allora i tre ovviamente sono delle carte un po particolari allora che cosa vi dice questa stesa a voi del segno della bilancia vi dice che voi sicuramente avete qua subito o fatto perché poi sapete le energie si possono interscambiare vi siete lasciati vi siete ehm in qualche modo avete finito avete ehm avuto una perdita in amore importante e forse non davate o non ricevevate abbastanza da questa persona e comunque diciamo che qua eh sicuramente questa situazione vi ha creato vedete qua i due e tre sono carte insomma molto dolore quindi qua viene proprio un qualcosa che voi avete vissuto che non vi ha fatto stare bene proprio per niente ecco però adesso è come se queste carte vedete come viene fuori questa donna che con questa tromba no diciamo suona questa tromba come la rinascita di qualcosa con la carta del giudizio qua vedo proprio una decisione una scelta eh da seguire quindi qua eh e cosa a cosa è dovuta questa scelta a un asso di bastoni quindi qua ci sarà eh un nuovo viaggio un nuovo sogno un nuovo inizio quindi probabilmente a voi della bilancia il 2023 vi porterà un nuovo inizio un ritorno con una persona con cui avete avuto delle problematiche in passato ma che poi evidentemente non avete mai dimenticato totalmente perché molto forse legati a livello fisico no perché tre di coppe ci parla nelle tarocchi dell'amore dei romantic tarot proprio della casa dell'amore fisico quindi qua vedo anche con l'asso di bastoni vedo un rapporto molto fisico più che sentimentale però dove avrete una condivisione e riuscirete in questo diciamo nuova fase di questo ritorno a guardare oltre che significa guardare oltre qua ci potrebbe essere sicuramente un ritorno che però voi magari non accettate oppure un ritorno dove poi fatalmente si ritornerà a ad essere nuovamente liberi però ragazze e ragazzi della bilancia io qua vedo in amore un ritorno quindi se voi aspettate un ritorno il ritorno ci sarà e ci sarà una nuova condivisione delle novità e si andrà oltre oppure potrebbe essere che se non aspettate il ritorno e ci sarà comunque questo ritorno poi magari vi prenderete questa soddisfazione e poi direte ciao ne sapete siete sempre voi libero arbitrio a decidere quindi questa è la cosa saliente diciamo così che vi succederà in amore nel 2023 scusatemi un attimo allora rieccomi qua adesso andiamo a vedere ragazzi e ragazze della bilancia cosa vi succederà nel lavoro nel 2023 ovviamente come dico io sempre il punto saliente del 2023 non tutto proprio tutto quindi vediamo cosa diciamo la cosa più così particolare tra virgolette importante che mi può succedere nell'ambito lavorativo nel 2023 a voi segno della bilancia quindi che cosa potrebbe accadervi nel 2023 nel lavoro a voi segni bilancini andiamo a vedere allora qui abbiamo la torre quindi qua venite da un disastro e dove però c'è un inizio con i fiocchi qua abbiamo anche un po di prudenza qualche ritardo ma il successo è assicurato perché c'è la carta diciamo lotto equivale la giustizia è il superamento di tutte le difficoltà a fondo mazza abbiamo re di denari ecco qua quindi voi sicuramente diventato un re di denari questo è poco come sicuro aspettate lo metto qua così lo vedete meglio allora quindi che cosa vi succederà intanto questo re di denari è una vostra energia potreste avere anche un segno di terra perché no quindi i segni di terra sono capricorno vergine toro quindi se voi siete una bilancina avete un segno di terra un bilancino e avete segno di terra andate a vedere anche il segno di terra se non siete come ascendente segno di terra questa è un energia di voi uomo uomo o donna di potere efficiente una persona che sa un commerciante questo è definito il commerciante sa fare soldi quindi sa gestire bene tutti gli ambiti lavorativi qua in un momento c'è stato un momento di delusione che avete avuto nel passato però nel lavorativamente parlando ci sarà stato un crollo un qualcosa ma anche dovuto forse al vostro orgoglio vedete perché siete un po orgogliosi un po così diciamo insomma lidicate anche spesso con le persone con cui lavorate ci può essere anche per alcuni di voi questa energia però qua succederà un avvenimento importante quindi un qualcosa di abbondanza verrà ovviamente dovete sempre avere prudenza perché l'esperienza insegna qua ci sarà un qualcosa un investimento su un bene immobile quindi qua qualcosa un progresso su qualcosa che forse prendete una nuova attività qualcosa che state aprendo che ne so un bar un ristorante un negozio sapete voi in ogni caso qua ci sarà il lavoro stabile il benessere perché i progetti verranno portati proprio al progresso quindi progresso in affare vi dice questa carta ci parla proprio di progresso in affare quindi qua ci sarà l'assuperamento di tutte le difficoltà e la riuscita e potreste anche fare dei bei viaggi insomma questa è una carta molto molto positiva anche per gli spostamenti e voi sicuramente diventate sorre di denari vi mettete in tasca tanti soldi o regina di denari sapete le energie non hanno sesso questo è quello che vi accadrà nel lavoro come punto saliente andiamo a vedere nella fortuna qua dobbiamo prendere alcune carte questa già se giri girata e la prendiamo o allora qui sono uscite delle carte le prendiamo tutte perché mi sa che sono proprio mamma mia incredibile sono quelle giuste che dovevo prendere ecco qua andiamo proprio bene allora ragazze le sei carte che io dovevo prendere dunque qualche cosa c'è allora intanto sicuramente voi siete intanto una persona che parlate troppo delle vostre iniziative dei vostri progetti dei vostri pensieri e interessi invece dovete avere una maggiore segretezza e riservatezza perché perché la gente è invidiosa e la gente può anche involontariamente così come dire mandare nell'etere un'energia negativa quindi non parlate dei vostri progetti se prima non si sono realizzati quindi dovete accettare anche dei consigli che vengono da persone più sapenti di voi più grandi poi dovete tenere a bada l'orgoglio lo diceva anche nell'altra quella del lavoro però qua vi annuncia questa carta grandi grandi onori grande soddisfazioni dovuto anche a voi che siete nobile generoso quindi comunque ci riuscirete è la chimera voi siete una persona che insomma sapete non inseguite le chimere siete preoccupati temete che vi possa succedere un qualcosa vedete qua ci sono delle tribolazioni che voi dovete affrontare delle difficoltà qualche notizia ci sarà per carità però 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 voi sapete che in ogni caso anche se c'è no voi sapete voi pensate che questa situazione vi può nuocere invece stranamente non datevi pensiero perché anche se succede qualcosa che vi fa pensare che le cose non vadano bene invece improvvisamente ci saranno delle ottime notizie e ci sarà ogni superamento di qualsiasi difficoltà e tutto andrà per il bene per il meglio scusatemi un attimo scusatemi ragazze ragazzi ma io sono raffreddatissima e ogni tanto e devo soffiarmi il naso ahimè mi dovete proprio veramente perdonare allora andiamo a vedere adesso quindi che appunto cosa vi dicono gli angeli vediamo gli angeli per il segno della bilancia che suggerimento che consiglio insomma vediamo che dritta vi danno aspettate queste le leviamo così facciamo un po più di spazio per gli angeli oh madonna mia allora qui dovremmo prendere una carta e vedere poi il fondo mazzo voglio prendere questa tempismo perfetto quindi qua succederà qualcosa giusta al momento giusto di questo ci parla il tempismo perfetto e poi gli angeli vi dicono cerca un segno quindi qua voi fate siate percettivi siate così con le antenne ben come dire sempre allerta perché qua dovete cercare un segno il tempismo sarà perfetto ovviamente per qualsiasi cosa voi desideriate quindi qua anche per il segno della bilancia tutto bene sono contenta e io ovviamente ragazze e ragazzi sapete vi aspetto tutti e tutte nei commenti se vi è piaciuto se vi siete riscontrati in qualcosa e soprattutto mettete il mio like sempre comunque in ogni caso per premiare il nostro impegno e iscrivetevi al canale perché no sostenete il canale perché insomma il canale ha bisogno di essere sostenuto da voi e soprattutto anche per avere così in anteprima tutte le mie novità quindi io vi saluto vi ringrazio vi auguro un meraviglioso 2023 a voi bilancine un bacione enorme dalla vostra Zaira grazie a tutti